Ciao e bentornati nel canale di Wondershare in italiano. Avete un iPhone 12 ed è bloccato sul logo Apple? Beh, può succedere un po' a tutti e per vari motivi. In ogni caso, oggi scopriremo come riportare il vostro iPhone ad uno stato di normalità. Ricordatevi solo di iscrivervi, lasciare un mi piace e cliccare la campanellina per essere sempre aggiornati con le novità del nostro canale. Dunque, prima di capire come risolverlo, è importante capire cos'è questo blocco sul logo della mela e da cosa può essere causato. Questa problematica, in termini tecnici, si chiama boot loop. Spiegato terra a terra, è uno stato nel quale l'iPhone continua a provare ad accendersi e non appena ha finito si riavvia subito, quindi compare costantemente il logo della mela che è il simbolo dell'accensione dell'iPhone. Da cosa può essere causato? Beh, ci sono diversi motivi. Può essere causato dall'update a una nuova versione di iOS, che è un processo che chiaramente va un po' a scombinare il sistema operativo del telefono, quindi se dovesse andare male può portare a questo tipo di problematica. In particolare iOS 16, in questo senso, ha diversi bug e non è di sicuro la versione più sicura alla quale aggiornare. Inoltre, il boot loop può anche comparire se avete provato ad effettuare il jailbreak dell'iPhone. Sì, è un processo che tende nel tempo a sparire sempre di più, ma ancora esiste e comporta dei rischi, tra cui questo. Infine, può succedere anche solo mentre state provando a caricare i dati di un backup sul vostro iPhone. Non c'è un chiaro motivo per il quale le due cose sono correlate, ma è così. Succede, da anni è un problema noto, ma ancora Apple non ha offerto alcuna soluzione. E per chiarirci, non solo con software di terze parti, può succedere anche se ripristinate i vostri dati da iTunes o iCloud, insomma soluzioni direttamente offerte da Apple che quindi dovrebbero essere sicure. C'è anche, ultimo metodo, la possibilità che abbiate qualche app o file corrotto sul vostro iPhone, che badate non è così impossibile come sembra. Anzi, probabilmente ne avete già, che non hanno causato problemi, ma esistono un po' dappertutto. Per quanto Apple voglia far credere che l'iPhone è questa bolla impenetrabile, non soggetta a questi problemi, beh, c'è da guardarci in faccia. Alla fine, il nostro telefono, anche il nostro iPhone, è un computer che quindi può avere queste vulnerabilità. Quindi, ora che ne sappiamo un po' di più, possiamo scoprire come liberarci di questa problematica e andare quindi a risolvere questo problema del bootloop. Il primo metodo è estremamente semplice, ma può anche rivelarsi molto utile. Un semplicissimo riavvio forzato dell'iPhone. Per farlo sul vostro iPhone 12, ma è un processo comune a tutti gli iPhone dal 2017 in poi, quindi dall'iPhone 8 e iPhone X in poi, basta premere rapidamente il tasto volume su, poi il tasto volume giù, poi una pressione prolungata, finché l'iPhone non si va a spegnere, del tasto di blocco. Poi, una volta spento, basta tenere premuto il tasto di blocco, normalmente, come se voleste accenderlo, e in teoria l'iPhone dovrebbe essere riportato alle sue funzionalità. La parte bella di questo metodo è che è semplicissimo da provare, rapido e non comporta alcun tipo di rischio, come perda di dati o di peggiorare la situazione. Potrebbe non funzionare, chiaramente è un metodo appunto un po' semplice, un po' rudimentale, però appunto vale la pena provarlo, quindi fatelo. Tuttavia, se questo metodo non ha funzionato, abbiamo altre strategie sulle quali puntare. Vediamo come utilizzare Dr. Phone di Wondershare per risolvere il problema, e anche questo metodo non comporta la perdita di dati, quindi possiamo chiamarlo sicuro. Iniziate scaricando, troverete il link qua sotto in descrizione, e installando Dr. Phone sul vostro PC o Mac, e collegate iPhone e computer con un cavo Lightning. Inoltre, se richiesto, autorizzate il PC a leggere i file dell'iPhone. A questo punto scegliete l'opzione dal menu di Dr. Phone per la riparazione del sistema, e dalla barra laterale assicuriamoci di essere nella sezione di riparazione del sistema iOS. Quindi ci saranno proposti due metodi, quello standard e quello avanzato. Preferiremo quello standard perché è quello che permette di mantenere i nostri dati. Se quello standard non dovesse funzionare, possiamo poi tentare con quello avanzato più avanti, consapevoli del fatto che ciò andrà a cancellare ogni dato presente sul telefono, e che quindi poi lo avrete come nuovo quando lo avete comprato. Ma, se come dico sempre, avete fatto un backup, anche questo non è un problema. Comunque, per ora clicchiamo su quello standard, e ci comparirà una schermata con le informazioni sul telefono collegato. Ad esempio, il nome del telefono, che versione di iOS gira, e cose del genere. Assicuratevi che le informazioni che vi mostra siano corrette, in caso potete andarle a modificare, in modo che tutto funzioni correttamente, appunto. Dopodiché, iniziamo il processo di sblocco. Ci sarà una fase di download degli strumenti necessari sul vostro iPhone, in modo che poi Dr. Phone possa operarci. E una volta fatto, comparirà una finestra che vi chiederà conferma per iniziare l'operazione di sblocco. Cliccateci sopra e il vostro iPhone sarà sbloccato senza più il bootloop, e quindi funzionante come all'inizio, come nuovo, insomma. Appunto, come abbiamo detto, utilizzare Dr. Phone è utile per diversi motivi. È rapido da utilizzare, sicuro, non comporta la perdita di dati, almeno nella modalità standard che abbiamo visto. Inoltre, il processo automaticamente aggiornerà anche l'iPhone alla versione più recente di iOS, che può aiutare a risolvere il problema. Per il terzo e ultimo metodo di oggi, vedremo come utilizzare la soluzione offerta direttamente da Apple, ovvero utilizzare iTunes. Questo però ha un grandissimo asterisco, comporterà la perdita dei dati, quindi, o che avete un backup, e quindi siete tranquilli in tutti i casi, oppure trattate questa come l'ultima spiaggia, quindi quando non avete più niente da perdere, nel senso che o avete il telefono bloccato, o almeno sbloccato ma senza dati, a quel punto conviene averlo sbloccato. Insomma, soprattutto se non avete un backup, prima provate le soluzioni senza perdere i dati che abbiamo mostrato prima. Dunque, assicuratevi di avere installato e aggiornato iTunes sul vostro dispositivo Windows. Se avete un Mac già installato, ma sui Mac più moderni, dal 10.15 del 2019 in poi, è integrato nel Finder, praticamente, quindi invece che operare su iTunes troverete la stessa pagina, ma nel Finder. Quindi, una volta assicurati di avere iTunes pronto, mettete il vostro iPhone in modalità di recupero. Quindi prendete il vostro iPhone 12, spegnetelo, e mentre sta riaccendendo, cosa che starà facendo sempre se è fermo nel bootloop, non solo nel momento iniziale per far comparire la mela, ma anche quando è comparsa, continuate a tenere premuto finché non cambierà schermata ed entrerà in modalità di recupero. Dovreste vedere l'icona di un computer con un cavo che indica appunto che l'iPhone deve essere collegato a un computer per risolvere questo problema. Quindi connettete l'iPhone al computer con un cavo e iTunes, o il Finder, l'abbiamo detto prima, andrà a notificarvi del fatto che è stato connesso un iPhone in modalità di recupero. Quindi nella schermata che sarà comparsa sul PC, cliccate il pulsante ripristino, che è quello che confermerà poi quindi l'operazione e cancellerà i vostri dati, state attenti. Date un attimo di tempo ad iTunes per operare e una volta finito avrete il vostro iPhone sbloccato, senza più dati, sì, ma almeno utilizzabile. Quindi poi se avete un backup potete anche tornare a metterli sul device. E questo per il video di oggi era tutto. Speriamo che questi tre metodi vi abbiano aiutato e se così è stato mi raccomando potete lasciare un like, un'iscrizione e cliccare la campanellina per supportare il nostro canale. Inoltre c'è la sezione commenti qua sotto per qualsiasi dubbio, curiosità o feedback che potreste avere e ovviamente potete condividere il video con chiunque possa averne bisogno. Noi ci vediamo alla prossima. Ciao!